Ciao Glitters! Bentornati in un nuovo video! Guardate qui cosa abbiamo oggi da aprire insieme! Abbiamo il Smooshin Surprise Maker Kit! Ciao ragazzi! Hola chica! Ciao ragazze! Vi vado a aprire con me oggi questo Smooshin Surprise Maker Kit! Ah, sì! Tantissimo! Non vedo l'ora di sapere di cosa si tratta, lo sai? Sembra essere davvero tutto molto colorato e bello! Già, hai ragione, bonita! Ragazzi, guardate qua! Ah, esatto ragazzi! Per lì che bonita hanno ragione, è super colorato ed è super bello! E sapete cosa si può fare con questo Smooshin Surprise Maker Kit? Una cosa che io sto adorando tantissimo, perché possiamo realizzare i nostri squishy! Cioè, avete presente quelli gommosi? Ecco, gli jiggly squishy, super super squishosi e mega morbidi! E li possiamo fare interamente noi, cioè è una cosa super bella, non vedo l'ora! Sulla confezione ci dice Make Surprise Mr. Richaraxer, quindi ci dice che è la personaggio e i personaggi segreti che troveremo all'interno appunto rimangono misteriosi! Qui di lato ci dice che dobbiamo fare pop quiz, quindi schiacciare, far crescere la nostra creazione! Ed avremo una sorpresa finale, cioè oddio se troviamo l'unicorno! La nostra candy sarà tipo hyper mega felice dell'unicorno! Mentre Bonita, secondo me, vuole trovare quella con i firellini! Sulla confezione ci dice anche che ce ne sono tantissimi, ma proprio tantissimi da collezionare! E che all'interno di tutto ciò troviamo appunto una specie di macchinetta, che credo sarà questo involucro d'uovo qui, che ci permetterà di far crescere al suo interno il nostro bellissimo squishy! Oh, oh, oh! Io non vedo l'ora! Non vedo l'ora perché voglio giocarci! Sarà morbidissimo e sarà davvero bello! E poi qua dice che include tante cose, non vedo l'ora di aprirlo! Bene, ragazzi, da questo kit ci sono uscite veramente tantissime cose, quindi andiamolo a vedere uno a uno! Allora, immagino che qui dentro ci siano scritte le istruzioni, quindi questo è molto 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 importante, perché senza istruzioni non riusciremo a far niente! Io cercherò di spiegarvelo man mano che lo facciamo! Allora, il foglio illustrativo ci dice che il nostro kit contiene un surprise maker, che sarebbe questo qui, che è una specie di, come vedete molto carino, uovo dove, ci sono rimaste attaccate le nostre palline, uovo dove all'interno potrà crescere e nascere il nostro smoothies school prize! Poi ci dice che troviamo due, ben due stampi per creare due tipologie di personaggi diversi! Gli stampi sono queste uova che vedete qui e sono fatte in questo modo, entrano messe all'interno della nostra macchinetta, la chiameremo macchinetta! Questo è uno stampo e questo è il nostro altro stampo! All'interno del nostro kit sono contenute ben tre miscele diverse, sono uno, due e tre! Le miscele sono quelle che ci servono per realizzare i nostri smoothies surprise, e ce ne trovano di tre diverse e hanno tutte e tre dei diversi colori! Sul foglietto, vedete, all'interno ci fa anche vedere come utilizzare il nostro smoothies, quindi la nostra miscela, quindi questo fogliettino sarà molto importante! Qui abbiamo il viola e lo vedete all'interno di questa bellissima faccina, guardate che carino! Mi piace! Che idea carina queste faccine! È davvero bellissimo! È vero Perlika, è bellissimo! Maglio sai che dobbiamo tipo tirarle un pugno per farlo fuoriuscire? Come? Sì Perlika, è proprio un pugno, hai capito bene! Ma chi ha inventato tutto ciò? Povera! Eh già, Perlika sono d'accordo, è davvero una cosa molto triste! Oh no, ma che sfortuna! Abbiamo trovato un altro viola uguale! Il colore è quello che vedete qui dentro! Oh ma che sfortuna, però uffa! Si possono trovare casuali e abbiamo trovato lo stesso colore! Speriamo che almeno il terzo sia di un colore diverso! Speriamo, glitter! Vediamo, ok! Oh, vediamo, 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 vediamo! Beh dai, ok, non è il colore dei sogni però... Anzi no, è arancione! Bonita, vieni a vedere se ti piace! È smozio carino! È bellissimo! Bonita, ti piace? Certo che mi piace! Ah, sì, fai pure quello che vuoi! Io non tiro un pugno, quella tenera faccina! Ma è solo un gioco! Io non lo tiro! Fai quello che vuoi! È bonita, Perlika è molto molto dolce! Non farebbe mai una cosa del genere neanche ad una mosca! Oh, mi spiace, lo farò io! Ah, ah! Non gli dici niente! Non gli dici niente! Perlika, ma è fatto così, bisogna farlo! Basta, io non voglio proprio vedere niente! Oh, oh! Eh, vabbè, ragazzi, Perlika purtroppo è fatta così! Bonita la conoscerai anche tu, noi la conosciamo benissimo Perlika! Bene, Glitters, queste sono le cose principali che troviamo all'interno! Quindi noi andremo ad utilizzare, abbiamo detto la ranzone che piace tanto alla piccola Bonita! Poi dalla confezione ci esce anche questo, che credo sia sostanzialmente la cosina in cui va applicato tutto! Non so come funziona, dobbiamo leggere bene le istruzioni, ma credo che questo serva da base! Poi ci escono, molto carina questa idea, due piedistalli su cui puoi posizionare i nostri Mooshies! E ragazzi, in realtà dice che dovremmo trovare un'altra cosa che a noi però... Ah no, eccolo, sono all'interno! Va bene, e se vedete queste palline? E sono i nostri slime dell'altro giorno! Comunque, ecco, ci sono delle bustine qui dentro che sono delle sorprese che servono per il nostro Mooshies! Ma non le trovavo perché sono già messe all'interno delle uova! Allora, dobbiamo prendere il nostro uovo grande, che è praticamente l'uovo madre nella quale possiamo riuscire a far uscire i nostri Mooshies! Andarlo un attimo a tenere per questo verso e lo dobbiamo praticamente far aderire alla nostra base! Ecco qua, dobbiamo farlo aderire per bene, mi raccomando, deve essere super super attaccato! Poi ci dice che questo qui va aperto, quindi dobbiamo aprire il nostro uovo da qui, ecco, questa sarà la visuale del nostro uovo! All'interno di questo uovo dobbiamo andare a mettere uno dei nostri stampi già pronti! Quindi mettiamo, io vado a scegliere questo qui e lo mettiamo all'interno facendo attenzione che questo qui vada verso l'alto, quindi che la plastica vada verso l'alto! Vediamo se sta messo dritto, devono, vedete, tutti questi buchini qui devono entrare in questi, quindi dobbiamo fare attenzione che entrino proprio tutti tutti! E dobbiamo controllare che queste due siano proprio dritte con questi altri due, quindi la parte bianca e la parte gialla devono essere, vedete, in questa posizione esattamente qui! Adesso quello che dobbiamo fare è quello che Perlika non vuole vedere, ragazzi, ed è una cosa veramente super super veloce! Andiamo a prendere la nostra confezione e dobbiamo essere, ragazzi, velocissimi, proprio velocissimi, velocissimi! Vi faccio vedere quello che dobbiamo fare perché viene fatto vedere anche qui con delle immagini! Dobbiamo, ma aspettate, era il contrario, ok? Allora, vedete che dobbiamo settare un timer di 1 minuto e 30 perché questo inizia subito ad indurirsi e poi ci fa vedere appunto che lo dobbiamo inserire all'interno di quel buchino lì, girarlo e con l'aiuto di quel cosino che abbiamo trovato prima anche andarlo a spremere veloce, 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 veloce dentro! E poi dobbiamo aspettare per un tot di ore! Io ho letto, non so se qui c'è scritto, ma ho letto che bisogna aspettare almeno 5 ore! In alcuni casi le persone hanno aspettato anche un'intera giornata perché non si era ancora fatto per bene! Quindi io lo farò adesso e lo lascerò, fatelo anche voi, secondo me è ottima come idea! Lo lascerò riposare e lavorare per tutta la notte e domani mattina andremo poi a vedere appunto come sarà! Forza, 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 schiazziamola! Bonita, devo farlo io perché bisogna essere più veloci, vedete? Ecco, si sta aprendo, si sta aprendo! Ok, si è aperto, dobbiamo fare velocessimissimamente! Ok, siete pronti ragazzi, dobbiamo essere velocissimi! Ok, siete pronti ragazzi, dobbiamo fare veloce! Ok ragazzi io direi che può andare bene Tutte le parti sono assolutamente pronte Anche se questa parte qua io la vedo ancora troppo troppo chiara E lo dobbiamo girare in senso orario Quindi per così aiuto Ma è difficilissimo come si fa? E facciamo scendere dentro al nostro uovo tutto tutto il mix Vedete che sta uscendo tutto Sta uscendo e dobbiamo fare attenzione appunto che ci vada un bel po' dentro Ho visto che ad alcuni rimaneva nella bustina perché inizia effettivamente a indurirsi Però almeno deve scenderne tanto 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 Avete finito quella cosa orribile? Sì sì l'abbiamo schiacciata ben bene guarda lì Ah poverina Dai ti piacerà quello che uscirà fuori? Ah sì lo spero lo spero Bene Glitters adesso non resta che aspettare almeno quattro ore Ma io vi consiglio di farlo magari prima di andare a letto O comunque il pomeriggio e di andarlo a riprendere la mattina dopo Vado a dormire buonanotte Bene ragazzi sono passate tante 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 ore Sono passate tutte le ore della notte Glitters sono stata qui tutta la notte a controllarlo A controllare che non succedesse niente al nostro piccolo nuovo cucciolo squiscioso Sono stata qui proprio tutta la notte Per lì che non è vero perché io ti ho sentito russare Ah chi? E io? Ma no Non ero io? No Ma non ti credo proprio tanto Comunque ragazzi Adesso non resta che andare a vedere se ci è venuto bene Incrociamo le dita che non sia un fail epico Incrociamo le dita perché vi ho detto che è tipo difficilissimo Ma soprattutto è la prima volta che lo facevo Allora Dobbiamo andare a estrarre questo se non mi sbaglio Comunque questo qua tecnicamente adesso potete anche buttarlo Perché non serve più E come vedete un po' di questo materiale è rimasto anche all'interno del beccuccio Noi speriamo che sia sceso il più possibile all'interno dello stampo però Ok ragazzi ce l'ho fatto a questo Oh oh Ce n'è un po' di super bagnatizzo Oddio speriamo che si sia asciugato per bene Ecco questa parte qua è rimasta tipo bagnaticcia tantissimo Comunque sono riuscite ad aprirlo All'interno troviamo la bustina Quindi adesso andiamo ad aprire prima queste Allora qui dentro abbiamo trovato Che carino Ha un sole e un fiocchetto Non so dove andrà questo se è in testo sul pancino Vediamo vediamo Poi qua c'è l'altra bustina No questo qui è quello per il pancino Ah no questa è la faccina Oh ma che faccina carina che avrà A questo punto credo che nell'ultima ci sia quello che va sulla pancia Ah no addirittura c'è un'altra cosa Allora no abbiamo capito Questo andrà sulla pancina Questo in testa guardate che carini questi occhiali Sono fatti super super bene E questa invece è la sua faccina Ma adesso non resta che andare a scoprire com'è Per aprire tutte queste cosine qui dobbiamo usare questo qui Perché sono molto molto dure E con questo ci aiutiamo Ci dice di andarlo ad incastrare E fare così per aprirlo E infatti così Ma poi è difficile toglierlo però Infatti così risulta molto 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 più facile Quindi andiamo a fare così Per aprirli tutti Oddio ma Ma ragazzi è un po' appizzicatico No non si è fatto per niente Secondo me ha bisogno di molte molte più ore Però il problema è che sulla confezione hanno scritto che ci vogliono 4 ore Perché si asciughi Noi almeno io l'ho lasciato tutta una notte e mezza mattina Quindi sono un sacco di ore Ed è ancora bagnato Cioè ragazzi è ancora molto bagnato No di qui non si può neanche proprio uscire No allora adesso io lo vado a richiudere tutto 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 per bene Giro anche Rimetto a posto tutte queste cose Vedete lo vado proprio a richiudere Lo lascio così e lo faccio asciugare ancora tante ore E io poi vi farò sapere più o meno quant'è la tempistica reale Bene glitters sono passate infinite ore L'ho alzato un pochino per controllare prima di registrare il video E non so che dirvi Avevo sentito sempre su youtube Che molti hanno avuto questo problema con questo kit Cioè che non asciuga veramente benissimo Sono passate in tutto quasi 24 ore Quindi calcolate che da 4 ore che dice il kit a 24 C'è veramente un abisso Quindi sinceramente non so proprio cosa dirvi Cioè guardate qua Vi faccio vedere Guardate Allora questo è il retro Che ho visto che viene bruttino Tutti è ok Questo è il davanti Vabbè è pieno di bolle Quindi manca un pezzetto Non so E però se voi vedete qua dentro È tutto bagnato Perché essenzialmente dentro non è asciutto ancora Sì dovrebbe venire un'altra cosa sotto Ma ora che guardo lo stampo Di poco No ragazzi non so veramente che dirvi Cioè ci ho provato in tutti i modi Ma il nostro squishy non vuole venire via benissimo Cioè questo dovrebbe essere così Sto rimanendo appiccicata ragazzi Scusatemi E questo dovrebbe essere il nostro squishy Bene glitters abbiamo fatto un'altra prova Vediamo se questo si è asciugato Esatto per lì che andiamo subito a controllare Vediamo un pochino Allora Allora Non lascia diciamo bagnato Allora no bugia Lascia un po' di appicc Come non so se riuscite a vederlo Non è del tutto asciutto Ne ho fatto un altro glitter Se sono passate altre 24 ore Andiamo a vedere com'è sul davanti Però ecco Non si asciugano benissimo glitters Devo dirvi che non si asciugano Ecco guardate Niente ragazzi Ne ho fatto un'altra prova Se ne ho passate altre 24 ore Come vedete Non Cioè questa parte si è completamente rovinata Ma non è neanche asciutta Vedete Quindi purtroppo Glitters Non so proprio cosa dirvi Ed è un peccato Perché questa parte qui davanti Per esempio Non è neanche appiccicosa Ed è super bella Ma asciuga un po' A cavoletti suoi Nel senso che Qui è tutto Vedete Ma si vede proprio Che è tutto bagnato E ancora assolutamente Che schifino No glitters Non so proprio che dirvi Ho fatto una seconda prova Ho provato a mescolare Per 5 minuti Invece che Un minuto e 30 Ho provato A spingere più prodotto Infatti ne è sceso Molto di più Però come vedete Proprio Non funziona Non so che dirvi Bene glitters A noi dispiace tanto Che non siano venuti Però non fa niente Sono comunque Molto carini Sì Comunque è molto molto divertente Da usare il kit Anche se alla fine Appunto La creazioncina A quanto pare Non ci viene Bene glitters Se questo video vi è piaciuto Anche se c'è Il fail di mezzo Cliccate qui Per iscrivervi al canale E qui per guardare Altri video Con la nostra piccola Perlica E già Vi aspetto Ciao glitters Ciao